Un'autrice, due libri, un grande personaggio. Sì, il personaggio è Leone XII, Papa dal 1823 al 1929, un Papa marchigiano di Genga. Il progetto è quello di approfondire gli studi su Leone XII. Ogni anno una piccola mostra a Genga con il catalogo stampato dall'Assemblea Legislativa della Regione Marche e queste mostre vengono poi portate in altre sedi, da Genga a Fabriano, a Roma, con l'idea di far conoscere questa figura storica in vista del 2023 nel bicentenario dell'elezione al soglio pontificio di Leone XII con una grande mostra e un catalogo che raccolgano i risultati delle ricerche portate avanti ogni anno su temi diversi del pontificato di Leone XII e raccolgano questi risultati con una presentazione che effettivamente possa citare i cataloghi pubblicati ogni anno dalla Regione in un percorso di crescita e di approfondimento.